Pensavo a quello che mi hai detto l'altro giorno, poi ho capito una cosa. Sai che cosa ho capito? Sei solo un ragazzo. Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli. Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Sei uno tosto. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice. Non ne conosci una che ti risollevi con gli occhi, sentendo che Dio ha mandato un angelo sulla terra solo per te. Non ne conosci una che ti risponde. Non sai cos'è la vera perdita? Perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami te stesso. Dubito che tu abbia mai osato amare qualcuno a tal punto. Io ti guardo e non vedo un uomo intelligente, sicuro di sé. Vedo un bulletto che si caga sotto per la paura. Nessuno può comprendere ciò che hai nel profondo. Ma tu hai la pretesa di sapere tutto di me e hai fatto a pezzi la mia vita del cazzo. Personalmente me ne strafrego di tutto questo perché sai una cosa? Non c'è niente che possa imparare da te che non legga in qualche libro del cazzo. Non c'è niente che possa imparare da te che non legga in qualche libro del cazzo. Non c'è niente che sia un video del cazzo. Grazie.